Allora, a sorpresa a questa nazionale UOSP un consigliere federale della FIB, Antonietta De Falco, che è il responsabile del settore scuola-vela per il Consiglio federale FIB. C'è qualche ragione che ti porta qui, anche legata al tuo settore? Assolutamente sì. Prima di tutto sono sempre molto curiosa di conoscere un po' le varie realtà, perché comunque dopo il primo anno un po' di ambientamento e conoscenza un po' di quelle che sono le dinamiche interne al Consiglio, alle zone, alle federazioni, adesso conoscere il territorio secondo me è una cosa fondamentale, è un passaggio che non bisogna sfuggire. Quindi venire qua dove tra l'altro c'è il gabbiotto scuola-vela del circolo nato e della vela argentario che è particolarissimo, sembra di stare neanche in Italia, no? Certe cose, molto di questa vita di spiaggia. Senti, il UOSP è una barca un po' di iniziazione, anche se ovviamente un'iniziazione da esperti, di iniziazione al foiling, diciamo così, dove abbiamo sentito arrivano da diverse esperienze veliche, da più classi, diverse anche età. E' una barca che può, a parte c'è anche il direttore giovanile Alessandro Sensini che l'ha inserita nell'Academy Foil, nel Foiling Guide, insomma quel circuito del Foiling Academy che la federazione ha iniziato. Tu che idea ti sei fatta del UOSP dal punto di vista di un possibile utilizzo in un circuito di scuola di vela, ovviamente un po' diciamo premium? Guarda, era importante esserci perché anche io, diciamo, sono anche un po' un tecnico, sono comunque istruttrice, quindi conoscere quali sono i punti di forza e di debolezza di questa imbarcazione, quali sono soprattutto le problematiche di alaggio e di varo della barca sono fondamentali per conoscere anche quali sono appunto le realtà che possono poi ospitare queste imbarcazioni. E su questo specifico, scusa se ti interrompo, che idea ti sei fatto? Quali sono le problematiche di alaggio e varo dei UOSP? Diciamo che sicuramente non sono barche per tutti i circoli perché comunque richiedono appunto una logistica e un tipo di struttura specifica, adeguata, e quindi non sono sicuramente per tutti. Però qui tutto sommato siamo in una spiaggia, c'è un parcheggio qua vicino, no? Questo è perfetto perché poi tra l'altro hai un fondale che degrada molto dolcemente quindi arrivi fino al faro e praticamente a piedi, quindi ti metti in sicurezza e vai. Il vento, soprattutto in questi giorni, era perfetto, quindi diciamo non ci sono stati proprio problemi, la logistica era perfetta, l'organizzazione anche, quindi è andato tutto liscio. Quindi diciamo è possibile che vedremo in futuro non soltanto la flottiglia di UOSP usata nella Folling Academy di Alessandra Senzini della Federazione Vela insieme agli IQ Foil, insieme ai Kite Foil, insieme ai Nacra, eccetera, ma magari anche qualche circolo più evoluto che può essere che la fa magari sui laghi del nord o comunque vederla anche in qualche scuola di vela, di perfezionamento possiamo dire. No, ma questo è il futuro, la scuola vela è sicuramente sui foil, quindi anche noi lo scorso anno sul lavoro delle normative abbiamo inserito tutto il programma foil e quindi è importante conoscere anche quali sono gli step e le procedure in modo tale da poter adeguare appunto i programmi per una giusta progressione. Poi tu foiling lo fai, no? Eh sì, ci proviamo, ci proviamo. Mi fai col wing. Wing, ho fatto un po' di kite foil e sì, mi sono data un po' e onestamente non vedo l'ora di provarle queste barche. Lo vedi? Eh, che consiglieri federali che abbiamo, eh? Bravi. Ciao Antonietta, grazie. Grazie, grazie a voi.